I destinatari di questa legge 104 non sono soltanto i soggetti disabili e loro conviventi, i cosiddetti caregiver, come già anticipati in precedenza, ma anche gli stranieri o gli apolidi, che dimostrano di soggiornare, dimorare o avere la residenza appunto nel territorio italiano, quindi abbiano il cosiddetto permesso di soggiorno.